Questa sera recitiamo, come al solito, il rosario che la nostra emittente vi offre. Lo recitiamo in modo particolare per chiedere al Signore il dono della pace nel mondo intero e in particolare fermare la guerra che sta insanguinando il cuore della nostra Europa, in Ucraina. Ricitiamo il rosario dopo un momento esterno di sit-in per la pace organizzato dal Rotary di San Giovanni Rotondo. Sono con noi anche un gruppetto di pellegrini polacchi della città idiocese di Zamosch che è confinante con l'Ucraina e conosciamo quanto la Polonia in questo momento si stia impegnando nell'accoglienza dei tanti profughi che stanno fuggendo da quella terra martoriata. Affidiamo al Signore tutte queste persone, affidiamo chi si dedica a loro nell'accoglienza e nella cura.